Vuoi riuscire? Ti invito a meditare su queste parole che provengono dal Signore direttamente per te. Per quale tipo di ricompensa stai lavorando? Per quale tipo di premio lavori? Un premio che svanirà o che rimarrà? Il successo, quello vero, quello che non svanisce con il tempo, viene da me. Questo mondo valorizza il possesso e la gloria, mentre io parlo di restauro, guarigione e perdono. Lasciati ispirare, trattieni in te ciò che viene da me. Pensa a Giuseppe, Daniele e Nemia. Loro hanno dato i giusti consigli e preso le giuste decisioni, grazie al mio spirito. Quello che faccio ha successo. Ciò che benedico porta frutto. Ciò a cui do vita si moltiplica. Ho così tanto in serbo per te. Ma tu vuoi prenderti del tempo con me? Come un padre voglio guidarti, insegnarti, accompagnarti. Appoggiati alla mia parola, al mio spirito e deponi nelle mie mani ogni giorno della tua vita, affinché tu possa portare buoni frutti. Amico mio, amica mia, ti invito a leggere Salmi 128, 1-2, Ecclesiaste 2-24, Daniele 1-19-21, Genesi 41-39. Lascia che io ti ispiri e trattieni tutto quello che viene da me. Grazie di esistere, Eric Selerier.